I numeri dei contagi in città fanno come l'altalena. I contagi ad inizio settimana sono risaliti rispetto al weekend e hanno superato i 100, con la città comunque che sta dietro a pescare a Vezzano. Il numero resta in doppia cifra, ma la curva seppur lentamente sta scendendo e il calo si registra anche con le persone in isolamento, che sono circa 12.000 in tutta la provincia. La situazione nelle scuole eppure va migliorando. Le nuove regole per le quarantene stanno alleggerendo in qualche modo il grandissimo carico a cui è stata sottoposta la ASL con i tizzaretti 5, cioè i tamponi da effettuare subito e dopo cinque giorni. Regole che stanno permettendo di riallineare i tracciamenti che nel periodo di massima intensità del virus sono andati inevitabilmente un po' in tilt. La curva fortunatamente è in calo. Diciamo che nei giorni passati si era già stabilizzata. Siamo passati da oltre 1.000 casi al giorno, successivamente siamo scesi intorno ai 700 e adesso ci siamo stabilizzati sui 600 in media, il che dimostra che la curva è in calo lentamente, ma è in calo. La situazione nelle scuole si è sicuramente alleggerita. Adesso con le nuove modifiche che ci sono state la situazione è decisamente più semplice. Anche perché si parte per quanto riguarda le scuole materne e le scuole primarie da 5 positivi per poter effettuare quella che è la didattica a distanza. Rimane invece invariato per quello che riguarda le secondarie, sia di primo che di secondo grado. E ovviamente un'altra semplificazione importante è quella della riammissione alla scuola, dove oggi basterà semplicemente presentare il tampone negativo. Certamente è un tempo congruo rispetto alla prima positività. Le vaccinazioni pure stanno proseguendo, ma molti bambini si sono positivizzati nel frattempo e potranno fare il vaccino solo a 120 giorni dalla guarigione. Per la fascia 5-11 anni si è circa il 31% con almeno una dose. Calano anche le restrizioni, via le mascherine all'aperto, ma bisogna attuare sempre una certa prudenza. Il numero dei bambini e dei ragazzi vaccinati non è grande. Tra prima e seconda dose siamo intorno al 31% della popolazione potenzialmente vaccinabile, ma questo è di peso. Innanzitutto, come avete detto, dall'inizio della vaccinazione, che mi pare sia stata intorno al 15 dicembre, quindi in pieno periodo invernale, e di conseguenza abbiamo avuto molti casi di positività. Poi appunto molti bambini o sono diventati positivi o sono finiti in quarantena e questo indubbiamente ha rallentato. La vaccinazione comunque sta proseguendo, ha ripreso vigore, ma dobbiamo tener conto proprio di quelli ragazzi che sono diventati positivi e che prima di 120 giorni effettivamente non potranno più effettuare la vaccinazione.